salve amici fratelli della congrega mi aspetto una serata spero movimentata rallegrata da questo mio falotico rinnovato e non più innervato nervoso chissà forse soltanto riesploso nella vita mia riamata trapassata risorta nella depressione sprofondata di nuovo di una lei innamorata allora questo è il pass pass per tu lei sta con una buona passera se la spassi bene passi e questa della 76e mostra internazionale d'arte cinematografia di venezia e non c'è due senza tre come si suol dire poi avemmo il trio comico i 3 3 beach on the beach sotto il sole la pelle brucia sotto la luna ancora di più la luna e i falò e i falò ebbene io ci sarò al festival hanno allargato la disponibilità dei posti per gli accreditati stampa sì io da un po di tempo a questa parte qualche anno scrivo per da ruma view cinema mi diletto in queste video recensioni e opinioni news aneddoti curiosità nel mondo di hollywood e non gli autore anche di un libro maledetto hollywood bianca scrissi anche hollywood nera non sto scherzando ma non so se lo pubblicherò rimarrà nel cassetto dei miei sogni da depositare ereditare se mai è un amico che maniera postuma lo renderà pubblico al posto mio inserendo il suo nome come autore e vantandosi di avermi fregato l'anima o forse torniamo analisi di un delitto ma con tom berenger cuba gooding junior lì c'è un bel rapporto secondo me anche anale proprio fra cuba che sta con clodine de niro si 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 e clodine stava con il figlio di de niro mulatto e diciamo c'è o chly lawrence non è male una scena diciamo allora dovrò come l'anno scorso l'anno scorso mi teni un po in disparte più appartato dopo una vita molto riservata, molto autocastrata mia, come dicevo rinsavita, qui è sempre una salita, quest'anno probabilmente interloquirò, disserterò, forse dissennerò, chissà, con Francesco Alò, Alò contro Alò, ma chissà se Paolo Mereghetti incrocerò. Paolo Mereghetti, questa è l'edizione del 2014, l'ultima ce l'ho? L'ultima non lo so, ma vogliamo tranquillizzarci un po', riappacificarci col mondo o ancora ironizzare sulle nostre sfighe quotidiane, sulla nostra mancanza di figa del passato, non lo so, e non datemi del drogato, perché nella Coca-Cola la Coca non, ecco, lasciate perdere i vascolossi, fa digerire, forse, e salutare, andate a Gardaland, divertitevi, mi raccomando, non perdetevi nel labirinto di Jack Torrance da Shining, altrimenti morirete non assetati, bensì assiderati, fa caldo, fa molto caldo, allora, cosa ne pensa Paolo Mereghetti di Paul Thomas Anderson? Ma, io penso che Paul, non sia un pollo come regista, che Pamela Anderson abbia girato un sex tape, di pura fellazio proprio, con Bret Michaels, poi stata con Stephen Dorff, chissà somewhere, vincitore del Leone d'Oro, Tarantino, hai fatto un po' il furbino, perché tu stavi assieme a Coppola, Sofia, e quindi, ecco, Pamela Anderson, Pamela Prati, questo, quanti anni ha 60? Si lascerà fotografare al mare con un altro uomo super dotato, come Cuba Junior, vedete, recensisce anche Segunda Pelle, Seconda Pelle, e, allora, cosa ne pensa il Mereghetti, cosa ne pensò? Ma conservò questa sua valutazione del petroliere? non ci va molto cauto, diciamo, il petroliere, si riesce a vedere, il petroliere, mancheranno anni Moretti, con tre pieni, i padroni sono importanti, quindi non offendetemi mai più, qui c'è anche un po' Maurizio Costanzo, buono, estate è buono, non vado a correre la Allora, due stellette, ah, però, a cavallo del Novecento, come sostiene Totò, in Totò, lascio la doppia, c'è anche questo, il cavallo dei pantaloni, a cavallo del Novecento, Daniel Plainview, dei Lewis, cerca l'argento, invece trova il tesoro, no, l'oro, non il petrolio, è che poi è la stessa cosa, perché, ecco, diventando magnate, più che altro uno stronzo, sacrifica tutto alla ricerca del profitto, commette un omicidio e respinge l'orfano, Frazier, non Brendan Frazier, F-R-E-A-S-I-E-R, da bambino, Howard, Ron Howard, dopo Happy Days, Sena è un regista di fuoco assassino, Beautiful Mind, che io proprio assomigliai a quel rasse duro lì, no, allora, Harvard, che è quello, si laureò a Oxford, allora, da adulto, che ha cresciuto come un figlio, riversa la sua rabbia sul predicatore ciarlattano Elisandei, Paul Dano, Paul Dano, mi viene sempre in mente quella pubblicità, Danette, Danone, Paul Dano, mi consiglia anche Bing Flynn, dato al libro di Nick Flynn, Another Bushy Night in Sex City, un'altra notte di cazzate in questo schifo di città, così tradotto per la Mondadori, che l'ha edito, no, mi punto il dito, editato, no, edito, edito, ma non voglio editarvi, però, allora, io sono stato seguito per anni da un tutor, non dell'assistenza sociale, non facendo delle battute di cattivo gusto, da un correttore Bozze, ho firmato il contratto per una nuova opera letteraria, così dire quasi metacinematografica, allora, adesso mi sto di nuovo perdendo e vado corretto, riavviato, raddrizzato e ripulito da tutti i refusi, ma non sono un uomo confuso, comunque, in questa società confusionaria ci vuole un uomo che metta i puntini su lei, le virgole al posto giusto e che assegni i pallini vuoti, le stellette, miei uomini di merda, coi denti da latte, lo sceriffo di Nottingham, i ginecman, gli spietati unforgiven, con la stella di latta, la via latte, ma basta, e io sempre più volerò alto nel firmamento stellato, allora, che ha cresciuto come un figlio, che l'ha seguito come un'ombra per tutta la vita, Anderson, adatta e sfonda, Pamela, no, no, sfronda il romanzo Petrolio, Petrolio, there will be blood, qui ci sarà sangue, che cos'è, Rambo, first blood, no, allora, di Upton Sinclair, ispirato a magnate Edward Dwight, ma comunque è meglio, adesso non tanto, all'epoca, quella di Bevelisse 19210, che è lì, Shannon Doherty, allora, la riflessione sulla nascita del capitalismo americano diventa una ricerca profonda tra le ossessioni di un uomo che vuole sostituirsi a Dio, Delewis premiato con l'Oscar si medesima nel personaggio senza temere di diventare un re Lear grottesco, Anderson sfoggia una grande tecnica, muove la macchina da presa magistralmente, usando i primissimi piani per incorniciare quello che accade sullo sfondo, come l'epica sequenza del sex tape, Bretman, no, allora, dell'incendio, ma a volte per di vista il flusso dei racconti ed è troppo programmatico nel cercare la grande tragedia e i grandi temi senza dire nulla di folgorante. Colonna sonora orchestrale, orchestrata però da chi? E dissonante, composta, ecco, dal chitarrista del Radiohead, Johnny Greenwood, non confondere con l'attore Bruce Greenwood, nel gioco di Gerald, ecco lì, è quello che dovrei dare io ai miei haters, un bel calcio nelle palle, proprio ai cugini, da Carla Gugino, stata Stephen King, ma alcuni brani sono di Brahms e Partos, che ha anche la fotografia di Robert L. Sussu. Allora, invece di The Master, cosa ne pensa di The Master, il Mereghelli? The Master. Non mi chiamate maestro, non sono maestro di niente, però basta con i bacchettoni moralisti, non sbacchettati, cerchiamo di mantenere un tono, un contenitore, perché quando si entra in sala, grande, o al pala biennale, nelle proiezioni speciali, riservate alla stampa, bisogna, ecco, guardare i film in silenzio, rispettando questa religiosa nostra passione amorosa per il cinema, anche avventuroso. The Master, lui non lo considera appena un capolavoro, tre stellette, non quattro. The Master, anche lui non va matto per... Paul Thomas Anderson, ha revisionato i suoi voti del filo nascosto e del filo di Arianna, soprattutto, cosa ne pensa, Mereghelli? Perché si perderà nel labirinto, ma non quello di Jack Torrance, del Minotauro? Lì poi, per sbrogliare tutto il bandere della matassa, Mereghelli, lei non vuole appartenere all'uomo della massa, vuole distinguersi, elevarsi, diciamo, essere un uomo d'elite, però... Allora, non vi leggo la trama. Non certo come un film su L. Ron Hubbard, di Anetics, di Anetics, di Anetics, il film di Anderson è in realtà qualcosa di più complesso, una riflessione sulla fragilità psicologica dell'uomo eroticus, del faloticus, no, dell'uomo americanus, sempre alla ricerca della libertà bisognosi qualcuno che lo guidi, se non addirittura che lo soggioghi. A molti la sceneggiatura dello stesso regista è sembrata troppo ellittica, con grandi salti, perché alla fine i due protagonisti si ritrovano in Inghilterra, e troppe poche spiegazioni, ma la forza del film è soprattutto il confronto diretto tra queste due personalità, una forte e una fragile, una dominante e una dispotica, no, disposta a farsi dominare, cioè masochista, massistica, e un sadico, un po' pervertito quel Philip Seymour, ma c'è anche la scena di ballo, tutti nudi, che cos'è, Eyesway Shot fu presentato in Laguna, una sicura di sé e l'altra smarrita in difesa, secondo una dinamica che è un travale che riferimento alla scelta di Auburn per scandaliare in profondità le insicurezze, i buchi neri, soprattutto delle attrici protagoniste della scena dell'orgia, Eyesway Shot lì, proprio, lì ti perdi, proprio, ti perdi e poi sei confuso come Tom Cruise, e allora Sidney Pollack, inizialmente fu disegnato Arby Cater, che lascia anche il set di Epoca Lips Now, il ruolo poi andò, sappiamo a marticino, e così, Sidney Pollack, e guarda Tom Cruise, eh, ci si è voluto entrare, dove? Nicole Kidman ha mai chiesto la separazione, no, lì, in quel festino, eh, e adesso, ti hanno orientato, mentre giochiamo con le palle, però del biliardo, vero? Allora, un percorso quasi esclusivamente anale, no, mentale, fatto di parole e di sguardo, attraversato una sottile linea rossa, The Sin Red Line malichiana, no? Attenzione, vedete, homo erotica, homo erotica, senza però dimenticare il ruolo dietro le quinte, la moglie di Dodd Peggy Adams, grande pezzo di figa Amy Adams, specie di angelico diavolo, ispiratore e tentatore, e anche questo culo, no, questo, non quello della Kidman, nell'incipito, questo culto del tutto maschilista, secondo cui la donna sarebbe l'incarnazione, la raffigurazione, diciamo, del peccato, il peccato, bellissimo dipinto, quadro, di Von Stuck, adesso faccio una battuta, l'uccello dell'uomo va usato a mo' di pennello, per affrescare, non per rinfrescarla, per riscaldarla, e dipingere con lei delle notti, diciamo, armoniose, probabilmente calorose, andiamo avanti, allora, la scelta di girare in 70 mm, penalizzata però da ridottissimo, a livello di centimetri, numero di cinema attrezzate alla proiezione, alla polluzione e all'eiaculazione, da una forza inusitata alle immagini, fa unisce l'idea del regista di scavare, scavare, scritto scavare, dentro i volti dei protagonisti per cercare le motivazioni delle loro scelte, ogni increspatura dell'anima finisce per leggersi in quelle della pelle, come era quella filastroca che si cantava da bambini, quella filastroca per tenere lontani babau come Freddy Krueger di Nightmare, no, no, a pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo tutti i pesci, vennero a Gala per vedere la palla di pelle di pollo, fatta da pelle, figlio da pollo, ma lei rimane un pollo, arrosto fra l'altro. Domenica d'agosto, che caldo fa, un sabato italiano, un sabato, la luna ci rarroste, va bene, ci siamo, siamo quasi, ecco, basta con la Ferragna, è sempre meglio ferrare agosto, allora, nelle ombre degli occhi, nelle sfumature di una fotografia impressionante e pesplendore di Mihai Mila, beh, anche questo Mihai va all'hotel Miramare, no, si chiama Mihai Mila Imar Junior, capace di restituire sullo schermo la magneloquenza intellettuale del regista. L'inevitabile Coppa Volpi e i due protagonisti ha costretto la giuria di Venezia ad attribuire al film, solo il leone d'argento, e perché? Allora, Merighetti, diciamo, se non sbaglio, ha rielevato, diciamo così, in auge, quasi tutto brand e palma, rimanendo però convinto che alcuni film siano proprio dei flop, proprio da pallino vuoto. Invece le palle del Merighetti sono, secondo me, sempre piene, perché a forza di stare in casa e guardare sempre film, ecco, dovremmo un po' svuotarle, che ne so, con Pierre de Tassis, ecco, che è lì, insomma, fra discussioni cinefile, cinematografiche, insomma, come dico io, da cosa nasce Cosce? Ecco, allora andiamo avanti, svuotiamoci di tutte le nevrosi, di tutti i traumi del passato, e cerchiamo di incazzarci nuovamente come Tony Montana, alias Al Pacino di Scarface. Da Federico Frusciante, considerato semplicemente un calm movie, mentre l'originale, con Paul Mooney, è un capolavoro, no, secondo me è quasi superiore al remake, così come sono sullo stesso piano, non nei tre piani di Moretti, sarà un film troppo pretenzioso, Nanne, Lessel, il superio, configurare la personalità e spersonalizzarsi, ma non mi interessano questi film, mi stressano, sono film sulla depressione, deprimente, come stai col tuo stato depressivo? Stai bene? Ma mi si nota di più se vengo? No, si nota se viene, anzi, lei gode se, o se non vengo stasera, ma stasera esco? Ma lei è quello di Flashdance, Jennifer Beans? Flashdance, allora, Scarface di Howard Hawks, quattro stellette, secondo il Merighetti, Scarface con Al Pacino, qui conserva le tre stellette, ma nella nuova edizione vi posso garantire che ne abbia, ne ha quattro. Vi leggo la vecchia, diciamo, critica, dunque non leggete, oramai questi critici vetusti, Al Pacino è torvo, eccessivo, non mento mai anche quando dico le bugie, è quasi epico, il film che ha lanciato la Fife, è qui e vede, Merighetti, che lei, il voglino però, ce l'ha, eh? Eh, tra un vime e l'altro, ci potrebbe scappare, ma scopatino, eh, Paolino? Eh, che senza spogliarsi ha una carica erotica incredibile, vero Paolo? Eh, butta l'occhio Paolo, eh sì. Voglio leggere, infatti, una nuova edizione, quattro stellette, quattro stellette anche vestito per uccidere, eh, Merighetti, ma stiamo sicuri che lei non sia Michael Caine? No, perché a me viene quel dubbio lì, eh? Lei fa tanto il sofisticato, tanto quello che... Eh, però, lì, questo va elevato, eh? No, 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 non voglio, non voglio, io, no, no, non voglio lei. Merighetti, non sono omosessuale, eh? Allora, Merighetti, Merighetti, aveva ragione Rocco Barbaro. Si ricorda Merighetti, no? Quando presentò la mostra della Laguna assieme a Serena Dandini? Si ricorda Rocco Barbaro? Quello imbarba a tutti, proprio. Diceva, Merighetti, me ne fott, me ne fott, Merighetti. Merighetti stroncò anche Fight Club. Da lui è considerato una sola, una pellicola del cazzo, ecco, appunto. Lì, in Fight Club, creato da un celeberrimo libro di Chuck Palahniuk, diciamo, dice la contestazione sociale, la gioca, infatti. Merighetti non ama molto questi fimanti, è molto sistematico però nelle sue recensioni, molto inquadrato, bene. e diceva, allora mi sto perdendo. E lì, Brad Pitt, mi si chiama Tyler Durden, inserisce la scena di Flash, forse chissà, un film in bianco e nero di Berman, no? Là, proprio lo schizzo, proprio. Eh no, ho visto bene? No, no, io ho visto un pene lì, scusi, eh. Eh no, io l'ho visto, allora io l'ho visto. I miei guardoni siete wire, eh. Il cinema wireistico di Brandepalma. Il cinema anche unanistico, infatti. Inizialmente Fan Fatale non piacque molto a Merighetti, lo considerò una sega, una sega proprio regista che se la tira troppo. Ecco, e poi, insomma, dicevo, ci siamo persi. Ecco. Prima di passare a un altro film di Brandepalma, recensito da Paolino, non Paolino Paperino, che volta qualche papera la commette anche Paolo, non guardate quei programmi paperissimi, anche se lì ci sono sempre delle grandissime fighe, eh. Allora. 3-3, non presentare un'edizione di Paperissima. Michelle Unde. A te non piace Michelle? No, Michelle Mabel. Michelle Mabel. Io sono un po' malingonico, diciamo, un po' come Noodles. Dicero una volta in America, preferisco il John Lennon, diciamo, del film. Danny Collins, Imagine con Al Pacino, promosso di Pacino, no? Chi è quel film? No, preferisco il John Lennon di Setsi Leone, quando c'è questo cambiamento, più che altro è un invecchiamento, Robert Dennis guarda lo specchio, dopo essersi guardato, aver parlato da solo, diciamo, solo il occhio, famosissimo, You Talk To Me, The Taxi Driver. Torniamo a Non Ci Resta Che Piangere, Massimo Troisi, e questa vita che non può ricominciare, se non riguardando, ricomincio da tre, no? Allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Volevo leggervi La Bella Porcata, che ha scritto Paolo, a proposito del film Zandali, Zandali, estate, si usano i sandali, vero? La temperatura cresce, e cresce molto, quello di Nicolas Cage, in questo film, di Sam Pispuri, una stelletta, Zandali, il solito triangolo, il triangolo, no? Ma no, no, sì, proprio stroncato questo film, proprio zero, Renato, 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 allora, ma perché sei nato? Il solito triangolo, nella sudaticcia New Orleans, il marito, Reynolds, scrittore falli, fallico, non ho scritto la Faloti, scrittore fallito, impotente, le dà tenerezza, l'amante pittore, torniamo, vedete, la mia battuta, che lì, pittando, diciamo, emozioni selvagge, per forza, Nicolas Cage Wilde a Tarte, cuore selvaggio, e qui con tanto già di parrucchino, eh, Nicolino, prima del proverbiano, prevedibile dramma finale, si possono gustare, massaggi a base di olio, d'oliva, e olive, piccante, e cocaina, questa è solo la Coca-Cola, vedete, oltre a un paio di cosce, no, d'amplessi, abbastanza sfinti, per un softcore, Eric Anderson, un po' il Thomas Anderson, la Mel Anderson, Eric Anderson, vedete, i miei ragionamenti, non fanno una piega, Eric Anderson, se proprio si vuole, io la voglio come, anzi, la voglio, adesso la invecchiare, se proprio si vuole, vale il prezzo, il prezzo del biglietto, del noleggio, insomma, Paolo, qui c'è l'occhio, un po' malandrino, allora, Paolo, io sono un uomo che, allora, sono un uomo innanzitutto, non lo so, lei vuole appurare con mano, basta, basta, ah, il rito, il rito, il rito è piaciuto molto, a mia nonna Rita, mia nonna, soltanto, una o due volte, due volte, lecco, ecco, quello, a mio nonno, che è morto, mia nonna paterna, è ancora viva, per il resto, passare giornate, leccare il gelato, crema e nocciola, non solo d'estate, al gusto di limone, comunque, vi consiglio, un libro, di Yoshimoto, banana, amma Rita, a Roma, per un corso di esorcismo, il seminarista senza vocazione, Michael Kovac, incontra il padre gesuita, Lucas, Lucas, che lo coinvolge, nel rito a praticare, sulla sedicenne incinta, rosari e gastini, presunto indemoniata, ritroverà la fede, esorcizzando il suo mentore, e nel mentre, mio mentitore, nel frattempo, davvero posseduto, ambientato in una Roma plumbea, abitata da zigre, rappresentata come una città del terzo mondo, un horror demenziale, che parte come una versione, cocune, no, neocon dell'esorcista di Friedman, che non piace particolarmente a Mareghe, e finisce in un tributo di ridicolo, tra asini indemoniati, e le facciacce, di un Hopkins insopportabile, scritto da Michael Petroni, adattando il romanzo, di Matt Baglio, poi abbiamo anche Aldo Baglio, del trio, cioè, microscopico, il ruolo della cucinotta, che comunque, quando esponeva, tanti anni fa, il suo seno, il suo davanzato, il balconcino, lì non era una tanto microscopica, nella parte della zia di Rosaria, che usa anche il rosario, Rosario Fiorello, Fiorin Fiorello, l'amore bello, adesso non verrà l'inducius, l'esorciccio, l'esorciccio, la donna delle gurulette, allora, il cellino a baby, allora, l'esorcista, lasciamo stare De Palma, e Black Dahlia, non so se ce la faremo, ce la faremo? Non so, l'esorcista, 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 non piace a Paolino, fa sempre il bastian contrario, fa un po' lo stronzino, con questi film, considerati dei capolavori, intoccabili, e anche sugli intoccabili, di De Palma, solo tre stellette, di Untouchables, di Untouchables, e vissi un po' da Jimmy Malone, più che altro da, da un uomo solo, alon, non prende mai il sole, solo delle sole, dalle persone che, lo inchiappettavano, sì sì, God's Lonely Man, Taxi Driver, allora, l'esorcista, 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 stroncatura, aiosa, l'esorcista, la genesi, una stelletta, l'esorcista 3, di William Peter Blatt, che è lo sceneggiatore, l'esorcista 2, l'eretica, di John Burman, va bene, eeeh, lo ha elevato, a quattro stellette, il Mary Gatiss, si è ricreduto, allora, tempo fa, vi lessi, una recensione sbagliata, due stellette, quattro stellette, perché, eh sì, la vicenda, è in metafora, di una realtà tranquilla, solo in superficie, specchio dei tempi, di una società, ci cerca di fare, cerca di fare i conti, col proprio passato, turbolento, e incerta sul futuro, rappresentata alla perfezione, del personaggio complesso, della Burstyn, candidata all'Oscar, imposta da Friedkin, produttore, e avrebbero voluto, Audrey Ebonshill, McLean, e Brian Frove, e Jane Fonda, magnifica in una performance, tutta di sottrazione, ancora oggi, un film spaventoso, inquietante, che faccia di mettere in gioco, anche lo spettatore, più smaliziato, su tematiche spinose, come fede a eteismo, senza suggerire, risposte facili, la voce italiana, indemoniata, di Laura Betti, che doppia quella, di Mercedes MacGam, Cambridge, è, Harvard, del petroliere, lei si è laureata a Cambridge, complimenti, di tutti gli archetipi, aneddoti legati, episodi funesti, avvenuti durante la lavorazione, il meno noto e più inquietante, riguarda la presenza, di Paul Bartson, l'infermiere con la barbetta, nella scena dell'arteriografia, nel 1979, nacque Stefano Falotti, con la venne arrestata, per una serie di omicidi commessi, nell'ambiente gay, che furono la base, il film successivo, di Friedkin, Cruising, nel 2000, cosa è da Cruising, scusate, prima che, termini il minutaggio, Cruising, Cruising secondo me, è un capolavoro, miglior film in assoluto, di William Friedkin, Cruising, Cruising, Tom Cruise, Mission Impossible, Cruising, dov'è, dai che non ce la facciamo, Cruising, tre stellette, passato da due a tre, dal romano di Gerald Walker, adattato dal regista, un thriller che all'epoca, fece scandalo, tra i ben pensanti, pensando, pensando, pensante, ma andò su tutte le furie gay, che è scesero in piazza, gay pride, a protestare anche durante le riprese, accusando la produzione di omofobia, di una visione distorta, della loro realtà, ma Friedkin interessa l'aspetto inafferrabile, quasi metafisico del male, di fatto, l'assassino resta senza una vera identità, e il bellissimo, è bellissimo in rete 4, finale davanti allo specchio, fa nascere qualche sospetto, anche nei confronti del protagonista, indimenticabile, la metropoli notturna, piena di colori metallici, monocromatici, fotografata da James Cameron, James Cohn, e i suoni ambientati, i suoni non possono essere ambientati, le scene ambientali, della colonna sonora, di Jack Nicholson, Jack Nietzsche, Nietzsche che dice, Friedrich Nietzsche, numerose le scene, no, scene semi documentalistiche, nei club per soli uomini, dove si balla, e si pratica sesso estremo, la versione integrale, è contenuta nel DVD, rimasterizzato americano, dove sono ben visibili, le immagini subliminali, di penetrazione alla Fight Club, no, che Friedrich ha inserito, durante un paio di omicidi, ma di altre vociferate, sequenze hard, non c'è traccia, la copia distribuita in Italia, inizia con una ripresa nottuna, del parco, dove si legge, del parco del porco, dove si legge il graffito, we are everywhere, noi siamo ovunque, mancante nella versione originale, ma, io invece non mancherò, al festival di Venezia, di un personaggio così, diciamo, quando, gli gira bene, soprattutto quando gli girano i coglioni, fa tutti il paliatone, il falò, non c'è due senza tre, campare, si tira a campare, oppure, c'è chi si fa di coca, e chi beve la coca cola, lei invece si faceva le seghe, su Claudia Colmico, si fanno tutte, lo so, se dico che è così, lo so, questa dica si faccia, per l'appunto, da culo, non va questo, questo, no, non va, non va, non riesco a, ecco, beh, facciamocela bevuta, dai, facciamocela resata, la vita l'ho presa con volo su figli, no, io ci sarò, il falò, siamo arrivati a 32, 33 gli anni di Cristo, no, giorno dopo la fine del festival, saranno 41 anni, i miei, 3 settembre del 79, ci vediamo stasera, beviamo ancora, 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 come sostiene, Matthew McConaughey di Killer Journal, di True Detect, e ancora, e ancora, e ancora, e ancora,